Sicuramente è una sensazione incredibile visto che è anche la prima metà per me in Mondiale. Sono contento che sono riuscito oggi a fare vedere quello che io sono capace di fare da numero 8 e portare la palla davanti. Oggi siamo riusciti a fare il lavoro che siamo venuti a fare e siamo contenti di questo. Di continuare su questa strada che stiamo facendo ora. Stiamo divertendo in campo, siamo un gruppo e giochiamo come una squadra. Queste sono le cose fondamentali per una squadra e secondo me siamo su un buon momento e dobbiamo mantenere questo momento che abbiamo e niente, passa così. Sì, come ho detto anche durante la settimana è andata la prima partita quindi quella pressione e stress non ci sono più. Oggi siamo entrato al campo e abbiamo giocato a Rugby. Finalmente siamo tutti contenti, infatti beviamo una vera su questo e poi adesso lavoriamo duro da due mani per fare un'altra prestazione di questo genere.